L'impegno del governo, il sottosegretario Castiglione sostiene la richiesta dello stato di calamità nel Metapontino. Buongiorno, per gli alluvionati del Metapontino c'è l'impegno del governo. Questa mattina a Matera il sottosegretario dell'agricoltura Giuseppe Castiglione ha fatto propria la richiesta della regione per dichiarare lo stato di calamità. A breve si attende una risposta anche da Palazzo Chigi. Mario De Pizzo. 35-40 milioni di euro per strade e altre infrastrutture e almeno 5 milioni per le aziende agricole. Il prefetto Luigi Pizzi illustra la conta dei danni ancora provvisoria al sottosegretario dell'agricoltura Giuseppe Castiglione. Pizzi caldeggia la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità per il Metapontino che la regione Basilicata ha già presentato in sinergia con la regione Puglia. E il sottosegretario la fa sua. Io oggi stesso parlerò con il Presidente del Consiglio, parlerò con l'Ufficio Legislativo, attiverò un raccordo con il Ministero dell'Economia perché poi bisogna prevedere le risorse e attiveremo anche la protezione civile perché immediatamente nei tempi più rapidi si possa dare un ristoro effettivo alle imprese colpite da una calamità che segue quella del marzo del 2011. Presente al tavolo anche i coltivatori di altra agricoltura. La seconda alluvione in due anni gli agricoltori chiedono che i fondi questa volta arrivino subito. Saremo soddisfatti quando vedremo i risultati. I risultati che ci attendiamo in questo momento sono nel giro di non oltre 15 giorni l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ma soprattutto un'ordinanza con strumenti veri, con soldi veri e strumenti efficaci. Non potrà accadere quello che è accaduto ormai due anni fa. Il sottosegretario Castiglione pensa di coinvolgere anche la protezione civile nella gestione degli interventi. L'impegno del Governo rassicura le istituzioni locali. Indubbiamente si tratta di tempi rapidi. Il sottosegretario si è impegnato ad intervenire, quindi a fare da tramite con la Presidenza del Consiglio perché l'ordinanza che dichiara lo stato di emergenza e con la nomina del commissario con poteri straordinari venga emanata quanto prima possibile.